L'argomento di cui vorrei parlare oggi è la dottrina della riveniscenza in Platone. Questa dottrina, che forse molti di voi conosceranno, è una delle più famose teorie di Platone e consiste grosso modo nel dire che le anime degli uomini, solo degli uomini, come dice il mito del Fedro, prima di incarnarsi in un corpo, hanno vissuto nell'iperuraneo, il termine che c'è proprio nel Fedro, dove avrebbero visto e conosciuto le idee del bello, del giusto, eccetera. E poi, la cosa è spiegata meglio nel Fedone, tramite il trauma causato dalla nascita, queste conoscenze sono dimenticate e l'uomo non le è più presenti nella sua dimensione mortale. Questa teoria è collegata in Platone evidentemente alla dottrina secondo cui l'anima è mortale, non è un caso che è esposta in dialoghi dove si parla anche di mortalità, come il Fedone, come il Fedro e anche il Menone, dove c'è un accenno a questo tema, è collegata anche alla dottrina della metempsicosi, che pure questa è presente nel Fedone e nel Fedro. Ora, questa teoria della reminiscenza ha goduto nel corso dei secoli di un interesse anche, di una fama alterna, perché se poteva essere molto interessante per i primi platonici dei secoli vicini all'era cristiana, comunque quei platonici interessanti poi anche ad avvicinare Platone al pitagorismo, alle religioni misteriche e poi dopo anche al cristianesimo, in una prospettiva chiaramente di trascendenza, che oggi chiameremo spiritualistica, secondo cui il destino dell'uomo è un destino non terreno, ma è un destino che ha a che fare con qualcosa che capita dopo la morte o prima di essa, c'è un'origine dell'anima prima di incarnarsi in un corpo, è un suo destino anche successivo. Ecco, se questa fortuna è stata piuttosto diffusa nell'epoca che vi ho detto, nel mondo contemporaneo la reminiscenza ha goduto invece di cattiva fama, di pessima fama, anche per pregiudizi o giudizi, non dico pregiudizi, magari anche corretti, di carattere teorico, cioè molti hanno pensato che è una teoria un po' troppo sciocca o ingenua o primitiva per poter essere attribuita a Platone, e soprattutto si è cercato di minimizzare la sua importanza in Platone nell'ambito proprio dei fondamenti della sua teoria. C'è chi ha pensato che la reminiscenza fosse una metafora, o un'immagine, o un mito, esattamente come anche di mortalità, faccio riferimento fra gli altri a una tradizione di interpreti platonici che va dai neocantiani, Nathorp, fino a Gadamer, Dermeneoti, eccetera, è un contesto che non va quello sul serio, o in senso soltanto metaforico, e poi c'è chi invece l'ha minimizzata, semplicemente riducendola, questo è più che altro quello che ha fatto la tradizione analitica, riducendola a un metodo di conoscenza, un metodo di conoscenza ingenuo che dipende dalla maieutica socratica, è un prolungamento della maieutica socratica, l'arte della levatrice di cui parlava Socrate, un metodo che Platone avrebbe adottato soltanto all'inizio della sua carriera e poi avrebbe abbandonato a profitto della dialettica. Cioè si dice, c'è un Platone socratico, metafisico, orfico, pitagorico, anche religioso, legato a Socrate, alla religiosità delfica, a concezioni dell'anima di tipo, appunto, come dicevo, spiritualistico, e questo Platone è un Platone che fa spazio alla reminiscenza come metodo quando questo orientamento è in vigore e poi abbandona, progressivamente, Platone diventa un filosofo sempre più laico, progressivamente abbandona la reminiscenza e assume invece come suo metodo di ricerca la dialettica. Ora, il primo commento che voglio fare è questo, può essere anche vero, può essere anche vero che dal punto di vista filosofico odierno la reminiscenza non sia un argomento interessante. Questo infatti preoccupa parecchio quei filosofi che cercano in Platone qualche cosa di interessante per oggi, che prefigure un po' quello che noi facciamo. Ecco qui, questo aspetto di Platone sembra piuttosto obsoleto, non dico di no, anzi non fendo posizione su questo. Però la cosa fondamentale, secondo me, è riuscire a distinguere due diverse prospettive, una di carattere filosofico e una di carattere storico-filosofico. Cioè, se noi usiamo Platone dal punto di vista filosofico per elaborare un pensiero nostro o decidere quello che è corretto o no nel suo pensiero, allora possiamo tranquillamente dire che la reminiscenza non ci interessa. però se invece stiamo facendo un lavoro diverso di storici, della filosofia, di interprete, del pensiero platonico, è difficile pensare che questa cosa vada presa poco sul serio, anche perché è uno dei pochi testi in una produzione come quella platonica che è zeppa di cose che dice una volta sola, è tutt'altro che sistematico Platone. I temi che esistono una volta sola sono frequenti, il demiurgo, c'è solo nel timeo l'idea del bene, c'è solo nella Repubblica, i cinque generi c'è solo nel sofista, eccetera. In un contesto in cui tutto sembra, o molto, di quello che ci dice Platone, sembra variabile, episodico e comunque non particolarmente reiterabile, se non a forza di pesanti interpretazioni, la reminiscenza ha il beneficio di apparire nei dialoghi in maniera diretta, almeno tre volte, a cui si potrebbe aggiungere, ma qui ovviamente dipende da come leggi i testi, un altro buon numero di passi dove compare in forma indiretta. Dunque, e questo succede anche fra l'altro del Fedro, un dialogo che, come la critica ha dimostrato, non può essere sicuramente ascritto al primo periodo o ingenuo periodo della filosofia di Platone. Stando così le cose, se si vuole leggere correttamente Platone, è giocoforza a prenderla sul serio, cioè non come una specie di peccato di gioventù che Platone avrebbe abbandonato appena diventa matura, appena smette di credere alle favole, alla Befana, al Babbo Natale, a queste stupidaggini, in ola, i temsicosi, e diventa finalmente, Platone ci diventa finalmente un filosofo concreto, scientifico, analitico come noi, sobrio, eccetera, e abbandona questa teoria per la direttica. Ora, che questo non sia così, che non sia così, lo si può capire anche da un semplice fatto, cioè non si può intendere la reminiscenza come un metodo di conoscenza, perché se la reminiscenza fosse un metodo di conoscenza, e la reminiscenza che deriva da anamnesi, anamimnesco, vuol dire rammentare, vuol dire l'opera di rammemorare, per essere precisi, perché mimnesco vuol dire ricordare, anamimnesco, vuol dire indica l'operazione in cui si recupera un ricordo, se veramente fosse un metodo, la sua applicazione sarebbe più o meno uguale a quello che noi facciamo quando cerchiamo di ricordarci quella cosa che ci siamo dimenticati. Dove ho lasciato gli occhiali? Dov'è l'ultima volta che li ho visti? Non ti ricordi di quella persona? Non ti ricordi che siamo stati insieme quella volta a Parigi? Questo è quello che noi facciamo quando cerchiamo di rammemorare qualche cosa. Ma è abbastanza chiaro che Platone non usa mai un metodo di questo genere. Questo sì sarebbe veramente ingenuo attribuirtelo, come se veramente uno dovesse cercare di ricordarsi, di fare sforzo nella memoria per cercare di capire dove mai ha visto l'idea del bello. No, non è possibile. Fin dall'inizio dei suoi dialoghi, Platone, per indicare il metodo di conoscenza, ha una sola strada, che è la dialettica. Anche se nei primi testi non usa questo termine, lo usa poco, comunque non è tecnico, diventa tecnico dalla Repubblica in avanti, però è chiaro quello che fa già l'entrotagora, per esempio. Cosa consiste la dialettica? Confrontare concetti non siano universali per rapporti di estensione, comprensione, inerenza o non inerenza. E questo è quello che fa il lavoro della dialettica, come è chiarito dal suo fitto da altri testi. Dunque, non è un metodo. Che cos'è invece di essere un metodo? È l'enunciazione di una condizione di possibilità metafisica, cioè il Platone si chiede fondamentalmente com'è possibile che noi conosciamo delle cose, riusciamo a riconoscere gli universali nella realtà, riusciamo a riconoscerli, quantomeno a riconoscere la presenza degli universali, come fa nel Fedone. Noi riconosciamo la presenza dell'uguale, confrontando due cose uguali, ci accorgiamo che non sono perfettamente uguali, dunque la percezione di questa differenza ci deve dire, deve mostrare, deve essere in grado, è segno del fatto che in qualche maniera un universale in testa ce l'ho. Dunque, questa è una condizione piuttosto particolare, perché quello che si verifica è che noi possediamo la possibilità, in realtà, di riconoscere tracce dell'universale e della realtà senza poterlo tematizzare, perché un universale è impossibile da cogliere, da definire. Ci accorgiamo che in qualche maniera questo universale è presente nello sfondo della nostra differenza conoscitiva, ma ogni volta che cerchiamo di darne una definizione, questo universale ci sfugge, cioè praticamente non riusciamo ad arrivare fino al punto. Per rendere ragione di questa situazione, Platone proprio si crea, questo è chiaro dal menone, della reminiscenza, è una teoria che appunto, non dico che sia l'unica, ma sicuramente ha il pregio di dare una spiegazione di questo fatto. Come facciamo noi ad avere una conoscenza sempre media tra qualcosa che sappiamo e qualcosa che no? Come facciamo a imparare qualcosa se non conosciamo niente prima? Come facciamo? O lo conosciamo già, dice il menone, allora la ricerca è inutile, o non ne conosciamo niente e allora la conoscenza è impossibile. Quindi bisogna presupporre una via intermedia, una medietà tra un conoscere e un non conoscere. C'è un conoscere che è sufficiente per farci intraprendere la ricerca, ma non sufficiente per renderla inutile. È una via di mezzo tra conoscenza e non conoscenza. Questa via di mezzo è proprio quella che per Platone è la reminiscenza. Il possesso della conoscenza da qualche parte ce l'ho, ma sbiedito, dimenticato, affuscato. Dunque, ce l'ho e non ce l'ho. Questo mi permette di dire che la ricerca è possibile tramite questa connessione metafisica che orienta la ricerca anche verso le funzioni corrette, è possibile, ma non inutile, perché non è già compiuta. Ho una traccia. La reminiscenza costituisce una traccia di carattere pregresso che ci permette di avere una certa fiducia che la dialettica arriva a dei risultati, perché la dialettica non farà altro che riconoscere qualche cosa che già si sapeva. Se non si sapeva niente in anticipo, nel caso che ci fosse niente, niente si può riconoscere. Non si può imparare niente se non c'è niente che si sapeva. Questa cosa è chiarissima anche in Aristotele, negli analitici secondi, dove dice che ogni conoscenza parte da qualche base. Ecco, la base di Platone è la reminiscenza. Non è certo un caso che, nel questo testo degli analitici di cui vi sto parlando di Aristotele, proprio Aristotele faccia riferimento al Menone, proponendo una funzione diversa, ma chiarendo al tempo stesso che questa è la funzione, a cosa serve la reminiscenza in Platone. Aristotele propone sì una funzione diversa, ma nel momento in cui lo dice ci conferma che questo è il problema a cui Platone voleva risolvere, il problema del fondamento della conoscenza. Ecco, questo è in generale. Dunque, se questo è vero, allora si capisce benissimo, si capisce anche bene perché la reminiscenza, la dialettica non può sostituire la reminiscenza. perché sono cose diverse. La reminiscenza è condizione di possibilità della dialettica, dunque non può mettersi al suo posto. Senza reminiscenza la dialettica è cieca, diremmo, parafasando a Kant. La dialettica è esattamente, quello che noi possiamo fare, fu la base delle condizioni poste dalla reminiscenza. Cercare di ripescare, di riandare in qualche maniera quella conoscenza che già avevamo, recuperandola. Ma la si recupera non attraverso appunto mnemotecniche varie, ma attraverso appunto, come dicevo, la dialettica. Ecco, questo è il contesto che ritengo corretto di questo discorso platonico sulla reminiscenza. Ora, io, quello che vorrei fare adesso è concentrarmi su un passo e mostrare come questo equivoco che ho appena dichiarato, ho appena, secondo me, evidentemente, ho appena enunciato, deriva in buona parte da una scorretta lettura di un passo del Menone, di Platone. Nel Menone c'è l'esempio che voi forse vi ricorderete e la reminiscenza è confermata e dimostrata con l'esempio dello schiavo. Cioè, Platone, davanti al paradosso che prima ho enunciato, non si può conoscere niente se non ne sai niente, se invece lo sai già, la conoscenza è inutile. Fa l'esempio dello schiavo, scegli uno schiavo a posto, c'è uno che non sa niente, si assicura che non abbia imparato niente, si assicura da suo padrone che sia nato in casa, che abbia seguito la sua evoluzione, che sappia per certo che nella vita concreta non ha imparato niente, tranne evidentemente che cosa? La lingua greca, se no non riesce a esprimersi. Dunque non sa nulla di matematica. Questa è una cosa importantissima e si assicura che non sappia nulla. Stabilito questo, attraverso una serie di domande, lo porta a risolvere in maniera corretta un problema di geometria, il problema di duplicare l'area del quadrato. Il primo lo schiavo dà delle risposte che sono scorrette, dopodiché piano piano, interrogato correttamente, da Socrate arriva la risposta giusta, cioè che si duplica il quadrato, l'area del quadrato doppia del quadrato originario si ottiene costruendo un altro quadrato sulla diagonale. Socrate sta molto attento mentre fa questo esperimento con lo schiavo e richiama l'attenzione dei presenti su questo, dice guardate io non gli sto dicendo niente, sto facendo domande, lui che dice sì o no? Tipico dell'argomentare socratico. Socrate non dice niente, se ti chiedo è A o B? E quello che risponde dice B, non è Socrate che lo dice, l'asserzione non è di Socrate, di Socrate è la domanda. Ecco, allora, secondo Socrate, Quimenone usa soltanto asserzioni sue, cioè lui non gli dice assolutamente niente. Allora, c'è un punto di questo testo, in cui secondo alcuni verrebbe chiaro che Socrate sta enunciando la reminiscenza come un metodo, cioè praticamente ti spiego come fare tramite la reminiscenza a recuperare questa conoscenza. Invece, secondo me, l'esperimento dimostra soltanto che c'era già una conoscenza, cioè che la condizione della conoscenza è la conoscenza pregressa. Ecco, c'è un passo dove, che molti invocano, appunto, per dimostrare, tentare di dimostrare che invece questa reminiscenza è un metodo. Ora, io sono quattro righe, ve le leggo rapidamente, poi ve le commento. il punto in cui lo schiavo è arrivato all'opinione corretta, no? Ha un'opinione corretta, ha una retta opinione su quello che sia la funzione del problema, no? Ecco, ora, Socrate giunge, queste opinioni come in un sogno sono messe in movimento da lui, è lui che le mette in movimento, lo schiavo. Cioè, per ora, lo schiavo le mette in movimento come in un sogno, perché? Perché evidentemente sta facendo riferimento a qualcosa che si è dimenticato, è come se uno ripesca delle conoscenze che ha avuto come uno quando la mattina si sveglia e cerca di ricostruire un sogno, no? La stessa cosa. Ma se uno lo interrogerà più riprese e in più mori su queste stesse cose, poi si assicura che alla fine avrà una conoscenza precisa non inferiore a quella non inferiore a nessun altro. Cioè, ma ecco, per ora come in sogno ha ripescato questa opinione, ma se uno lo interroga oltre, dice qua il testo, poi si assicura che alla fine avrà una conoscenza precisa non inferiore a nessun altro. Secondo alcuni questo passo vuol dire ora è arrivata un'opinione e dopo in avanti tramite il metodo arriverà la conoscenza, no? Doxa, opinione, conoscenza, episteme. Una conoscenza non inferiore a nessun altro, un'unità precisa a quello c'è il testo, una conoscenza precisa, akribos, è un avverbio greco molto forte, così come quella di tutti gli altri. In realtà qui c'è un errore di traduzione perché dopo precisa, avrà una conoscenza precisa non inferiore a nessun altro, mettono dopo precisa una virgola, come dire, avrà una conoscenza precisa in sé, come quella degli altri. Ecco, già la cosa è problematica perché chi ritiene che qui ci sia dietro un metodo deve poi giustificare come mai Platone improvvisamente arrivi a sostenere che tutti hanno una conoscenza precisa delle idee, come nessun altro. Qualcuno ha parlato un po' stupefatto di questo improvviso ottimismo platonico quale direbbe in questo passo, direbbe guarda, lo schiavo, anche lui, persino uno schiavo, può arrivare a conoscere le idee in maniera precisa, cose del resto che sanno fare tutti. Ma quando mai Platone è plausibile che tutti sappiano fare questo lavoro di conoscere in maniera precisa le idee? È assolutamente inverosimile e in effetti il passo correttamente attraverso non vuol dire questo, non vuol dire una conoscenza precisa virgola non in filo da quella di nessun altro. Ma vuol dire arriverà se interrogato correttamente a una conoscenza non meno precisa di quella degli altri tanto poca che sia. Tanto poca che sia non c'è un termine assoluto, non dice una conoscenza precisa. Dice anche lui che non sa niente anche lo schiavo che non sa niente se correttamente interrogato potrà arrivare a una conoscenza uguale non differente da quella di chi ha imparato la matematica. Poi che sia tanta che sia poca non ce lo dice il testo. Non ci sta dicendo che tutti possono con il metodo arrivare ad avere una conoscenza precisa. Ci sta dicendo che chiunque può arrivare lo stesso tipo di conoscenza che l'abbia imparato o che no. Perché? Perché non è necessario impararla. Questo è il punto. Perché lo schiavo si è interrogato correttamente e arriva a una conoscenza uguale a quella del matematico? Perché entrambi conoscono perfettamente le idee o possono conoscerle? No. Ma semplicemente perché quello che ha studiato la matematica l'ha imparato in questa vita? Lo schiavo non ha imparato niente questa vita però siccome già lo sapeva da quella precedente interrogato in maniera precisa arriva il risultato non diverso da quello di un altro. Non diverso. Cioè questo è il paradosso di Platone. Cioè come capita come può capitare che uno senza aver imparato niente arrivi lo stesso a dire cose sensate come dicono gli altri? Perché la conoscenza è pregressa. Ma il testo non dice da nessuna parte non dice in nessuna maniera qui che la conoscenza qui si arriva è precisa perché precisa è relativo altrettanto precisa che quella degli altri né più né meno di quella degli altri. Qualunque sia la conoscenza come lo schiavo arriva ci arriva ci può arrivare anche uno schiavo perché la fonte è diversa. qui è come se potrebbe immaginarsi uno ha studiato la matematica e ci arriva subito perché ha attivato da tempo questo lavoro di dialettica di ricerca chi non ha studiato la matematica ci arriva se è istruito se opportunamente istruito ci possono arrivare tutti ma non ha una conoscenza precisa ha quel tanto di conoscenza che si ricava dalla reminiscenza dunque non è che qui si dica allora il metodo della reminiscenza c'è un metodo che va dalla conoscenza all'episteme per niente dice soltanto guardate quello che capita stranamente capita però è questo capita stranamente che tutti possono arrivare a uno stesso livello di conoscenza quale che sia sia chi ha imparato in questa vita le cose sia chi no che strano ancora qual è la condizione di possibilità la reminiscenza cioè se persino lo schiavo che non ha imparato niente può arrivare anche lui in qualche maniera a conoscere non meno bene bene o male che sia non interessa degli altri vuol dire che la fonte di conoscenza di apprendimento non è tutta qui ce n'è una di tipo diverso lo schiavo mette a frutto mentre quello che ha imparato la matematica mette a frutto sia la reminiscenza sia quello che ha imparato lo schiavo ha solo la reminiscenza ma il risultato può essere lo stesso dunque non c'è questo testo come nessun altro nessun accenno al fatto che la conoscenza che la reminiscenza possa essere un metodo per la conoscenza delle idee in maniera perfetta in questa vita come si vede anche da qui questo passo come tutti gli altri indica la reminiscenza come condizione sufficiente necessaria del fatto che lo schiavo stranamente riesca a fare quello che fa non è ne fu una maniera un metodo vi ringrazio semplicemente che riniscenza l'unico